Noi ci siamo insediati nel 2019, la prima cosa che abbiamo dovuto gestire, ce la ricordiamo tutti, è stato il primo concerto di Giovanotti, un evento di una portata eccezionale mai realizzato, che avrebbe potuto chiudersi bene come si è chiuso, ma essendo una prima esperienza c'erano tutte le condizioni perché si chiudesse non bene. Invece ne siamo usciti benissimo e da lì credo si è iniziato effettivamente un percorso di ripresa della conoscenza di Rocella fuori dai confini regionali che è continuata poi per motivi differenti. Ma poi dopo quel momento esaltante vi ricordate la frana al castello? Io dirò una serie di cose che probabilmente o sono state dimenticate o non sono conosciute e questo è il vero successo secondo me di questa amministrazione, c'è che queste cose che avevano un impatto potenziale tragico non sono conosciute dai cittadini. Quella frana del castello che purtroppo ha causato il crollo di un'abitazione civile è una frana che rischiava di portare via tutta via città, c'è tutta la strada che porta al castello e si è riusciti nel giro di 15 giorni a recuperare 500 mila Euro per un primo intervento di messa in sicurezza e adesso salendoli al castello si vedono le trivelle che hanno iniziato a lavorare per un intervento di circa 5 milioni di Euro per consolidare l'intera collina. Sembrano lavori ordinari ma non lo sono, senza quei lavori oggi non ci sarebbe l'accesso al castello perché le condizioni di movimento della frana erano tali per cui quella frana avrebbe causato ovviamente il crollo di altre abitazioni e la chiusura di via Vittorio Emanuele e sostanzialmente il crollo di tutta la via che porta al castello. Poi abbiamo festeggiato il Natale del 2019 e nel 2020 abbiamo dovuto affrontare come tutti i comuni un evento che la storia regala ogni 50 anni forse o anche di più ogni 100 anni la pandemia. Ed è ovvio che la pandemia ha inciso su tutto, però mi piace ricordare che proprio nel periodo di pandemia, Giuseppe ce lo ricordiamo, Roccello è stato l'unico paese che ha organizzato gli eventi estivi. Il Festival Geste non solo non si è fermato ma sono state organizzate credo due delle edizioni più belle degli ultimi anni. Il Festival Geste è diventato centro di riferimento di tutto il territorio, era l'unica struttura regolamentata. È nato il Summerfest se non vi ricordate bene, l'idea del Summerfest venne fuori lì perché noi siamo stati l'unico comune ad aver adattato una struttura per lo spettacolo alla normativa anti-Covid. Aiutati ovviamente dalla morfologia della struttura, ma con un'organizzazione che è stata talmente impeccabile che non c'è stato mai un contagio durante gli eventi. E gli eventi sono stati tutti regolarmente svolti. Tu hai un'opposizione ex consigliare, diciamo così, non di persone presenti in consiglio, ma qualcuno che… Ci sono blog, ci sono lettere emissive, eccetera, sono dei gruppi che fanno quel tipo di opposizione a te non piace. Allora, se io avessi il 100% del consenso… Sarebbe preoccupante. Sarebbe molto preoccupante per me e credo per la democrazia di Rocella. Quindi è assolutamente fisiologico che ci sia una percentuale anche importante del 30% dei cittadini che non condividono le tue scelte. C'è secondo te, c'è. Ma non so dire, non ho idea di quanto è la percentuale, ma è assolutamente fisiologico che ci sia. Io la cosa che rimprovero è l'opposizione dietro la scrivania. Questa è una cosa che… l'opposizione che non vuole il confronto, l'opposizione che decide cosa pubblicare e cosa non pubblicare sui propri blog. Ecco, questo tipo di opposizione è una posizione che non mi piace. Se sarebbe piaciuto più un confronto, neanche dialettico. Assolutamente sì, ma io sono sempre aperto a qualsiasi confronto. Non temi di essere smentito, diciamo. No, a me piace il confronto. Io mi sarei aspettato che chi scrive dietro una scrivania e ha un consenso, voglio dire. Insomma, ti sarebbe più piaciuto che in un Consiglio Comunale Aperto un cittadino prendesse la parola e dicesse la sua e tu potresti rispondere. Mi sarebbe piaciuto che fossero state organizzate in questo periodo, di cinque anni, degli incontri con i cittadini per dire guardate l'amministrazione sta sbagliando in questo. Noi ne facevamo, ne abbiamo sempre fatto quando siamo stati all'opposizione, ma anche l'opposizione che c'era prima, che c'è stata in questi anni, l'ha sempre fatta. O con il giornale o con… però c'erano dei momenti di incontro con i cittadini e questo elemento manca. Non si può pensare di fare politica raccogliendo la diceria e riportando… Ma la mancanza dell'opposizione potrebbe essere un problema vostro? Io credo che sia un problema per l'occello, questo sì. Diventa un problema anche vostro? Ma diventa un problema anche nostro perché poi rischi l'autoreferenzialità. Se tu non hai qualcuno che ti dice guarda stai attento che qua secondo me sbagli, che è più che legittimo sbagliare, e evidentemente poi c'è il rischio concreto che tu diventi autoreferenziale e quindi ti monti la testa in qualche modo. D'altro lato ovviamente la mancanza di un'opposizione dall'esterno può essere eletta in vari modi. Certamente la barzelletta per la quale non si fa opposizione perché non c'è praticabilità democratica, credo faccia ridere tutto il mondo. Non c'è opposizione perché c'è gente che preferisce, ti ripeto, il pettegolezzo, la diceria rispetto invece a un impegno politico serio per contrastare una proposta di governo.